Allora, è stranissimo perché noi siamo, un anno esatto fa eravamo qua e sembra passato un giorno, il tempo è volato. Devo dire che mi dà un effetto diverso quest'anno, un po' di cambiamenti, cose, che dici? Beh, ogni anno è comunque un'esperienza nuova, cioè riscoprire pure questo posto è sempre bellissimo. Eppure questa cosa che dici tu di che sembra passato un giorno è proprio perché ci si sente a casa qua. La cosa bella è che abbiamo fatto caso, i ragazzi sono quasi tutti under 20, quindi c'è un pubblico giovanissimo, è bello perché l'arte ti fa capire quanto non muore mai, è sempre attivissimo. C'è una bella energia. E stasera non vediamo l'ora di sentire... È gioventù, sì, vogliamo gioventù addosso. Noi speriamo di spingere i giovani a rischiare sulle proprie passioni perché molte volte ci ritroviamo a intraprendere percorsi che non sono del tutto nostri. Quello che bisogna dire è che noi siamo sempre stati coerenti con i nostri pensieri e qualunque cosa ci piacesse o volessimo fare ce la siamo andate a prendere a forza e con impegno e dedizione. Esatto, far arrivare proprio il messaggio che se uno ha una passione molto forte, la sente tanto forte dentro, la deve seguire e soprattutto deve essere anche molto sincero con questa passione perché poi quello che torna sono grandi soddisfazioni. Non esistono neanche popolarità o cose, il successo nella vita è sempre quello di fare quello che ami. Con se stessi, successo con se stessi. Con se stessi. Io quello che porterò con me personalmente è il sorriso che hanno questi giovani, hanno una positività che io invidio perché non è che sono il nonno, però vedo tanta positività e tanta forza come magari molti di noi dieci anni fa non avevano. Noi dieci anni facevamo, vent'anni, eravamo un po' più seriosi. Questi ragazzi sono seri ma sanno sorridere. Ho visto tanti sorrisi, tanta voglia di fare intelligenza, tecnologia che fa aumentare l'intelligenza su tante cose. Esatto. Il mito dei giovani che non ci hanno voglia di fare, che non sono curiosi, che invece no, i giovani hanno voglia di fare e anche hanno tanto da dire e lo devono fare. Sì, è bello, mi fido avere un futuro fatto di questi giovani, quindi dai raga. Com'è andata la giornata? Siamo a metà giornata praticamente. Abbiamo già fatto tante cose, siamo pieni e carichi di tante esperienze, anche dell'anno che ormai è passato e sembrano passate, non lo so, una settimana, forse due, ci ritroviamo qui a condividere a belle emozioni, abbiamo fatto le prove. Belle prove, il palco è enorme e sicuramente la piazza sarà strapiena stasera, quindi grande emozioni. Abbiamo già cantato un po' di canzoni insieme al pubblico, che c'erano le prove, per cui tutto stra-positivo, vediamo l'ora. Cerco il meglio da me stesso e di dare il meglio da me stesso, quindi vorrei... Il mio modello invece è sempre stato mio padre ed è poi il modello che vorrei essere io per mio figlio, nel senso parlando oggi di arte, musica e cinema, ma l'arte in generale, e dico un modello mio padre perché mi ha permesso sempre di seguire tutte le mie passioni, a costo di indebitarsi, fare tardi, portarmi, riportarmi, qualsiasi sacrificio, pur di vedermi felice. Quindi lui è il mio modello e vorrei essere lo stesso modello per il mio figlio. Ma ti sei trasformato un po' in tuo padre, eh? Eh, perché mio padre è pelato, quindi nell'ultimo anno ho detto pure io. Speriamo sicuramente di lasciare una bella immagine positiva di persone, musicisti, amici che vengono qua, suonano, si divertono e tornano a casa con un sorriso che è contagioso anche stando in questo posto. Condivido, assolutamente. Dire la musica penso sia troppo scontato. La passione anche, cosa è indispensabile? Lo strumento? Lo so. Beh, fisicamente lo strumento, però se vediamo, diciamo, se ci guardiamo dentro, secondo me ci vuole tanta pazienza, veramente tanta dedizione, soprattutto per come è diventata la musica al mondo d'oggi. Il mondo della musica in generale che va a una velocità che non ti puoi neanche immaginare, per cui ci vuole veramente una pazienza incredibile, sapere che prima o poi il tuo momento arriverà e beccare quel treno e non sbagliare. Cercare anche il bello e trarre ispirazione dalle piccole cose, insomma.